Fino a questa mostra fotografica perché? Perché? Perché noi sappiamo da dove siamo nati, anche dove saremmo diretti, quindi è doveroso per tutte le famiglie che abitavano nel centro storico, nella zona del castello, farli rivivere, rivivere la loro vita, il modo di vivere negli street, come si dice a Crotone, e che praticamente è un riportarle alla vita. Per noi è come rivivere quei tempi, quei giochi, quelle cose che facevamo a Piazza Castello. Roberto, che cosa rappresenta per te questa mostra fotografica? La mostra fotografica è un tuffo nel passato di noi ragazzi, oggi adulti, anzi anziani, e quindi rivedersi come eravamo, come vivevamo, dove stavamo, gli amici, la piazza del castello era un vociare continuo. Oggi invece si vede che non è come allora, i ragazzi giocavano sempre, tutto il giorno, un vociare continuo, assordante. Oggi invece i ragazzi hanno timori, le famiglie si tengono i bambini in casa, oppure li portano a passeggio loro perché i pericoli incombono sempre in questa società odierna. Noi su Bucastello, come si sta? Per quanto ci riguarda benissimo, perché abbiamo trovato veramente il fil rouge che unisce parecchie cose. Abbiamo iniziato, diciamo, quattro amici con Pino Perri, volevamo solamente ritrovarci noi ragazzi che abbiamo abitato in Piazza Castello. La cosa poi è andata avanti, felicemente devo dire perché oggi siamo circa 2850 iscritti, la cosa ci fa piacere, da cosa poi nasce cosa, abbiamo visto che collaborando con, in questo caso, Arcuri particolarmente e poi altre persone, siamo dati da fare anche per l'apertura del castello. Tutto ciò che riguarda, in buona sostanza, il centro storico, ci ritorniamo adesso in una bella realtà. È una pagina virtuale, non abbiamo sostanza legale, quindi possiamo solamente appoggiare e eventualmente dirigere il pensiero su questo o su quello. Antonio, che ci fai tu qui con i castellani? Io sono nato sul castello e quindi mi è stato chiesto la disponibilità per allestire questa bellissima mostra e noi ovviamente siamo stati subito disponibili perché questa mostra venisse allestita in uno scenario bellissimo. I ricordi aprono sempre nuove strade? Aprono nuove strade, poi chi ci abita qua, c'è pure Roberto Trevisi che ne testimonierà più di me, sono esperienze, ricordi di quando le famiglie erano famiglie allargate, cioè era una famiglia unica. Io ricordo che ero bambino ed era una cosa molto bella, valori che purtroppo oggi abbiamo perso.